E che si mangia oggi? Prepariamo insieme i peperoni gratinate al forno con una panatura croccante, saporita e gustosa. Innanzitutto lavate ed asciugate i peperoni. Tagliate a metà ed eliminate i semi interni. Eliminate anche i filamenti bianchi. Spennellate le falte di peperoni ottenute con l'olio extravergine di oliva e pepe e cuocete in forno a 180 gradi per 15-20 minuti. Preparate la panatura. In una ciotola aggiungete il pane grattugiato grossolanamente, il formaggio, prezzemolo e aglio tritati. Mescolate il tutto, aggiustate sempre di sale e pepe e condite la panatura con un filo d'olio extravergine di oliva. La vostra panatura è pronta. Trascorso il tempo di cottura tirate fuori i peperoni dal forno e quindi distribuite la panatura su ogni peperone. Aggiungete ancora un filo d'olio e cuocete in forno caldo a 180 gradi per 10-15 minuti. ecco i peperoni pronti. Perfetti per accompagnare secondi di carne, pesce o per arricchire la farcitura di un panino. Questi peperoni sono proprio buoni! Grazie per aver seguito questa videoricetta, alla prossima, ciao! 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 Ciao!